Si passa, non si capisce. E' bello. E' bello, 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 bello. Prendiamolo. Mettiamolo, se no... Adele? E' bello. Adele? E' genoso di capire. Gira, Adele? Guarda, zio. Vieni. Ma la pinta è di... A pinta è di... A pinta è di... A pinta è di... Dio, me lo ha accidito. Ma tu, non c'è il capello così male. Ma c'è un'altra modetta. Un gaio tu. Un gaio, come hai detto tu? Ma che tu non entra? Allarga. Guarda quanto è bello che ti capisci. Ma Pia. Pia, vieni a me sto tu, Pia. Vieni a me sto tu, Pia. Amore, bua... Ma ci troviamo bene. Questa è la mal parata, non lo serve al piede. Vieni qua, vieni, a te, lui, vieni. Ma qui vuoi ancora... Il capello deve fare. Ah. Mi devi tirare un pozzo. Opla! Metti le mani dentro, prima ora e poi l'altra. E poi agliate i capelli, eh? Mamma mia, ci vuoi tre volte in questa macchina. E non passiamo avanti con la carta. ciao e prendi prendi prima la maglietta dentro perché piangi senza niente abbiamo fatto già dov'era la manica si è scappata un po' l'ha detto miseria la miseria aspetta vediamo vedi qua non lo facciamo uscire perché piangi posso saperlo me lo dici prendi qua la manica qui in mezzo qua così tieni forte stavolta e non te la va a scappare dai è uscita un'altra volta te l'hai fatto scappare ma lele che ti fai scappare guarda dov'è adesso un'altra volta te l'hai fatto scappare fino a sopra sopra miseria miseria ecco fatto mettiamo dentro questa allora la mamma di pelino e chi da pelino a comprare un pezzo di prosciutto allora quando la mamma di pelino ed è scritto saloperia no e questo pensa ma non va a dire no e questo e quando penso che se vedono solo di saloperia allora io sono un bagno e se tagliano con la pacca non è scatto lo porta la mamma, poi questo progetto per la cattana, e poi si taglia il piscinello, lo porta la mamma, e poi questo progetto vuoi comprare la mamma, e dopo Pierino dice, prima che mi cresce ma non ci capito niente racconta un po la storia di te riguardo che fai nella adesso lo spingono facciamo più niente io sono nato sabato 4 marzo del 2000 e 3000 abito il comune numero 27 la mia mamma si chiama angela pedrillo il mio papà si chiama giuseppe di pietro a scuola che scuola mi vado a scuola a porto dei sattis che sembra che la preghiera ma la quarta elementare e che vuote c'hai eh guarda bene un ricordo ti ammò che vuoi senti? eh no ma devi durare ancora un po' allora solo due minuti fino ad ora con chi sei fidanzato? con Martina con Martina! con Martina! con Martina! con Martina! con Martina! segretamente, per farecoglio seconda! unuhuh Grazie.